un confronto un po' particolare quello di oggi abbiamo iphone 6s e huawei e nexus 6p allora particolare perché non è del tutto corretto ma abbiamo attualmente un iphone 6s plus con cui sarebbe stato più corretto magari confrontarli però per far vedere un po' comunque di differenze tra i due device innanzitutto usabilità perché io sono abituato personalmente almeno negli ultimi anni diciamo alla stazza del nexus 6p più o meno questa dimensione 5.5 5.7 pollici qui abbiamo quanto punto 7 pollici questo iphone l'ho usato l'ho usato in questi ultimi 3 4 giorni ed è sì giustamente lo schermo è piccolo non c'è non c'è assolutamente paragoni faccio vedere dimensioni però è sempre diciamo piacevole e tornare a dimensioni umane riuscire veramente a fare tutto con una mano come si riesce appunto in un iphone 6s in un sony z5 compact e simile comunque alla fine sono scelte io voglio farvi vedere un po' le differenze tra i due mondi diciamo allora innanzitutto qui abbiamo 12 megapixel camera 12 megapixel camera sensore impronte posto sul retro sensore impronte posto sul tasto on frontale andiamo a sbloccarli vabbè versione dimenticavo versione silver versione rose gold sono entrambi le versioni mie preferite personalmente blocchiamo l'iphone veloce come sempre sblocchiamo sp si appoggia solo il dito non c'è bisogno di premere nulla veloce anche questo ok adesso li vediamo schermi sono tutti e due alla stessa luminosità molti ci sono lamentati hanno analizzato che lo schermo del nexus ep è basso sui 300 nits però adesso qui sono la stessa luminosità ma tanto basso non sembra anche perché non so se lo sapete questo display uno strato in meno diciamo quindi ha meno riflessi e risulta più luminoso di un device che magari ha uno strato in più ma ha più nits quindi qui vedete le differenze tra i due display giusto perché voglio farvi capire che quello del quello del nexus non è affatto basso si vede comunque molto bene anche in esterni sotto luce del sole sotto luce naturale si vede si vede bene e appunto qui siamo a metà della luminosità entrambi i telefoni anzi anche era anche di meno ecco qua siamo esattamente alla pari come vedete quindi per me un display che non è perfetto sul nexus come non è perfetto neanche sull'iphone che vabbè qui un hd sull'iphone 6s plus è un full hd ma hanno entrambi i loro difetti magari nella definizione dei colori eccetera però sono comunque due ottimi pannelli allora di cosa possiamo parlare a confronto qui li vedete con i loro launcher stock google launcher molto semplice molto diretto qui launcher di apple solito bella questa parte qua di ricerca che si può anche richiamare con uno swipe molto comoda molto molto comoda qui tocca basarsi sulla maria di ricerca qua c'è anche qui vedete la pronuncia ok google per attivare google now infatti mi ha sentito subito anche molto preciso devo dire allora mi sto a dilungare molto sul software cerca di impostazioni anche qua vedete su iphone si riesce molto bene a usare giustamente per questo siamo a volte mi mancano gli smartphone dalle dimensioni compatte e ovviamente sul nexus non è così bisogna un po ingegnarsi a sul 6 sul 6 come 6s plus c'è la funzione di home ridotta che per me su un 6s normale è abbastanza inutile sul 6s plus che già è grande come questo più o meno è più comoda qui la funzione abbiamo entrambi risparmio energetico novità per entrambi diciamo per i due sistemi operativi is 9.2 e marshmallow 6.0.1 ottimizzazione batterie risparmio energetico ma vediamo i consumi allora parliamo di multitasking e parte audio subito dopo quale preferisco tra le due impostazioni di multitasking ma non mi piacciono particolarmente tutte e due detto così manca la manca il mitico tasto chiudi tutte vabbè ovviamente su iphone non c'è mai stato e sui nexus neanche c'è su altri android tengo tutte tutte e due bene l'app in background 2 giga di ram qui e 2 g e 3 giga di ram sul nexus qui non sono problemi di ricaricamenti di app che si ricaricano in background di schede del web andiamo fare il test audio la cassa su iphone è qui in basso la vedete la griglietta è qui sul nexus e qua davanti iniziamo dal nexus via iphone 6s allora l'audio è per me abbastanza a favore del nexus che è veramente una cassa potente si sente anche nel volume è bello alto anche la qualità a me sembra proprio il rimbombo non so se rende al vivo si sente di più sul nexus una cosa che ho apprezzato molto di questo 6p senza nulla a togliere l'audio dell'iphone 6s che vi dico già che nel 6s plus è un po un pochino meglio ma siamo comunque sotto al al nexus l'ho avuto il 6s plus l'abbiamo recensito audio un pochino migliore rispetto al fratello minore però non siamo i livelli per me del nexus dove recupera invece l'iphone è per me nell'audio in cuffia mentre nell'audio in capsula siamo lì me lo aspettavo un pochettino più alto quello cioè da come ricordavo quello del 6s allora per il resto discorso ricezione ricezione sono rimasto un pochino deluso ho fatto un viaggio stato a roma questo weekend e in alcuni punti abbiamo modo avuto modo di testare un po di telefoni la resezione in alcuni posti locali interni e l'iphone ha un po barcollato almeno stesse operatori altri telefoni stessi punti e non ha non ha retto bene mi aspettavo qualcosa di più ha retto molto bene invece il nexus ip che di costruzione huawei che non delude sa fare con le rete con la ricezione quindi ha appreso meglio quindi per me ricezione superiore sul nexus 6 p allora discorso fotocamera fotocamera che sono entrambi delle 12 megapixel sono molto simili come risultati a conti fatti hanno il software è molto povero cioè abbiamo entrambi poche opzioni abbiamo addirittura quasi meno opzioni sul nexus vi faccio vedere facciamo presto perché sono sono queste non c'è molto da dilungarsi software qui hd r plus flash timer quelle che avete visto quella di swipe per il video gli scatti sono comunque molto buoni rispetto allora nel nexus rispetto ai device passati c'è stato un netto miglioramento 12 megapixel ortica non stabilizzata comunque foto molto buone e io sono rimasto soddisfatto non siamo livelli top tipo note 5 s 6 plus lgv 10 ma è proprio proprio poco lì sotto è quindi ottime ottime le foto invece nell'iphone 6s siano che gli iphone non sempre diciamo il top per quanto riguarda il reparto fotografico non si diceva che ogni anno l'iphone era il camera fonda battere quest'anno purtroppo non è andata così ci si aspettava di più è stato un miglioramento ovviamente rispetto all'iphone 6 però ci si aspettava qualcosina di più intanto faccio vedere un po sono i filtri qui in più che non ci sono sul nexus poi dopo qua vedete classiche opzioni foto 1 1 panoramica scorre qua moviola timelapse ce ne sono di più rispetto al nexus qua troviamo anche le live photos che è una sorta di htc zoe io non le uso personalmente così anzi solito mi sembra che sono attivi anche di default a volte per il resto le foto sono per me leggermente migliori su questo in condizioni di scarsa luminosità un po' meglio su questo soprattutto in automatico in condizioni di buona luminosità in automatico l'iphone restituisce sempre dei risultati sorprendenti mentre quando cala diciamo la luminosità le condizioni diventano un po' difficili le foto hanno più rumore purtroppo quindi siamo sotto un po sotto a livelli di top di gamma comunque su un buonissimo livello fotografico allora fluidità ottima entrambi giustamente due ottimi processori snap 810 apple a 9 e per il resto ho fatto una disamina abbastanza veloce sono due device molto differenti android stock ios due dimensioni differenze anche se l'esperienza di questo 6s è direttamente comparabile al suo avversato al suo fratello maggiore il 6s plus che dico già le dimensioni sono praticamente identiche quindi fate conto di avere un iphone delle dimensioni di questo nexus ip abbiamo in più ovviamente un display full hd un'ottica stabilizzata che aiuta nei video soprattutto un audio leggermente maggiore e come volume ma per il resto questi sono i due device sta a voi scegliere quale prezzi penso che allora l'iphone 6s attualmente 16 giga sta intorno ai 650 euro nuovo sono diverse offerte e a un prezzo abbastanza abbordabile rispetto a quello che dovrebbe essere lo standard degli iphone il nexus ip da 32 giga e che la versione base ricordo sta dipendendo sono varie offerte tipo oggi c'era una su amazon 580 c'era stata un'altra 500 comunque presso il prezzo comune 650 ufficiale 700 euro siamo tra i 600 e 650 euro per questo nexus ovviamente dopo per il 6s plus siamo su altri altri prezzi ben più alti e quindi sta a voi scegliere quale con quale di questi due device vi trovereste meglio io personalmente mi sono trovato molto molto bene come dimensioni con questo 6s plus che schermo piccolo ma comunque un telefono usabilissimo con una mano cosa che purtroppo con questo e con tanti altri telefoni tra cui il 6s plus è impossibile da fare